Un pareggio tra Sonso Vadrim e Fak Boys, dunque un migliore in campo per squadra, capitano Benassai e Vitale per i Fak Boys, iniziamo da Benassai, un punto guadagnato? Un punto guadagnato sicuramente, anche perché adesso originalmente c'era il distacco di tre per cui adesso siamo messi meglio. La partita impegnativa, noi puntavamo un pareggio perché siamo l'entità della squadra avversaria, ma noi ci siamo divertiti e abbiamo avuto bene l'ultimo anno. Corrado, invece per voi sono due punti sicuramente persi, visto l'istacco che potrebbe ridursi dalla seconda in classifica? Sì, anche persi, anche questa volta per ingenuità, però comunque è stata una bella partita, complimenti all'altra squadra perché comunque alla fine diciamo che è veritato. Va benissimo, grazie a tutti e due.